Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, brevissimo, brevissimo, brevissimo perché mi è arrivato appena adesso, in realtà ieri, un nuovo prodotto della casa TP-Link parliamo della nuova IP Camera NC450 eccola qua, questa è la scatola, la confezione di vendita tra l'altro nuova, vedete che il logo è completamente visto, quindi completamente nuovo, vedete? è una IP Camera Pan Tilt, quindi che riesce a ruotare a 360 gradi con la funzionalità di motion detect, la possibilità della visione notturna la possibilità di inserire un SD card e l'applicazione che è disponibile sia su ambiente iOS che su ambiente Android tre anni di garanzia, come il solito di TP-Link guardate dietro, c'è uno scenario facsimile che vi fa vedere che potete controllare la vostra abitazione ovviamente da remoto basata su cloud, quindi non avete necessità di aprire porte mica porte e quant'altro l'applicazione è davvero ben fatta ma alla carta risulta essere superiore di caratteristiche comparata alle sorelle minori come l'ANC200, 220, 250 perché ha la possibilità, come vi dicevo, del motion detect schedulabile poi da specifiche tecniche parla anche della possibilità di selezionare alcune zone dove può rilevare il motion detect, si può anche schedulare ovvero decidere di farlo funzionare in alcuni orari si può spegnere ed attivare anche tramite l'app ma tutte queste informazioni ve le dirò meglio quando farò la recensione e sicuramente farò anche un video dove vi spiegherò come configurarla oggi è un po' tardi, credo che non riuscirò a configurarla ora ma sicuramente domani credo di metterla in pista e vediamo questa NC450 cosa è capace di fare e poi ragazzi il prezzo è appena uscita e costa 114 euro io ho una Foscam che non ho ancora recensito molti di voi sapranno che la utilizzo da parecchio tempo ha alcuni problemi e voglio vedere se questa IP camera con questo prezzo che è davvero veramente ottimo riesce a darmi soddisfazioni e riuscirà a prendere il posto di questa Foscam R2 che ho lì già da diversi mesi niente, per questo brevissimo video è tutto non è neanche un video unboxing è solo per farvi sapere che sto per provare questo nuovo prodotto NC450 di TP-Link e sono davvero molto soddisfatto perché secondo me sarà un ottimo rivale di quasi tutte le IP camera in commercio ciao ciao